Il 27 agosto 2020 è entrato in vigore la nuova normativa nazionale sul gas radon, il decreto legislativo 101 del 2020. Questo modifica integralmente tutta la legislazione precedente in merito alle radiazioni ionizzanti. Perché interessarsene? Ci sono due motivi. Da un lato ci sono nuovi obblighi per esercenti e per proprietari di immobili. Dall'altro c'è maggiore tutela per la popolazione e per i lavoratori. I limiti tollerati di concentrazione di gas radon sono stati abbassati ed è stata introdotta la misurazione obbligatoria anche al piano terra con una frequenza di una misura ogni otto anni. Questo sia per le abitazioni e sia per i luoghi di lavoro. Premetto che questo è un video molto sintetico ed è rivolto a chi già conosce cos'è il gas radon e vuole approfondire velocemente gli ultimi aggiornamenti al 2021. Nel caso in cui non sai cos'è il gas radon riporto il link di un altro mio video in descrizione che lo spiega. Invece se hai necessità di una trattazione più approfondita ho realizzato un breve corso sulla piattaforma di formazione della 2C di cui sempre in descrizione troverai il link. Vediamo insieme in sintesi quali sono le novità di questa normativa nazionale. Però prima di procedere volevo ricordare che per non perdere altri contenuti simili è consigliabile iscriversi al canale della 2C. Il decreto legislativo 101-2020 tratta di radiazioni ionizzanti deriva dalla direttiva 2013-59 EURATOM e abroga gran parte della legislazione precedente. Il RATOM viene affrontato nel titolo 4, capo 1 e anche brevemente nell'allegato 2. In particolare all'articolo 10 si prevede che entro il 27 agosto 2021 sia in vigore il piano nazionale d'azione per il RATOM preciso che alla data di legislazione di questo video non è ancora stato emesso e non si conosce per nulla la data certa e quindi chiaramente è da vedere esattamente quando verrà pubblicato. È particolarmente importante questo piano nazionale per due motivi. Il primo perché stabilirà le aree dove è obbligatoria la misurazione al piano terra per tutti i luoghi di lavoro e per le abitazioni. Secondo perché a seguito dell'articolo 11 a partire dalla data di entrata in vigore scattano due anni di tempo per le regioni per adeguarsi e procedere e far procedere obbligatoriamente alle misurazioni programmate. Chi e dove devono essere fatte queste misurazioni? Allora, secondo l'articolo 16 le devono fare gli esercenti di attività di tutti i luoghi di lavoro sotterranei e delle stazioni termali. Poi anche i luoghi di lavoro semi interrati o al piano terra però limitatamente alle aree definite dal rischio dal piano nazionale che abbiamo citato sopra. Secondo l'articolo 19 le devono fare anche i proprietari di abitazioni con almeno un locale a piano terra o anche semi interrato o interrato però limitatamente alle aree definite a rischio dal piano nazionale che abbiamo citato. Chi materialmente fa queste misurazioni annuali di concentrazione di castrato? Secondo l'articolo 155 li faranno i servizi di dosimetria con riconoscimento ottenuto da istituti precedentemente abilitati. È una definizione molto generica ma così è riportato letteralmente nel decreto. Ogni quanto si devono ripetere queste misurazioni? Allora, secondo l'articolo 17 ogni otto anni. Inoltre si devono poi ripetere in caso di ristrutturazione o interventi di miglioramento dell'isolamento termico. Quali sono i limiti di concentrazione? Allora, in passato per i luoghi di lavoro il limite era di 500 becchere al metro cubo. Ora, a seguito dell'articolo 12, sia per le abitazioni sia per i luoghi di lavoro si passa al limite di 300 becchere al metro cubo. Inoltre, dal primo gennaio 2025 per i nuovi edifici il limite è invece di 200 becchere al metro cubo. Cosa succede se si superano questi limiti? Occorre procedere alla bonifica e poi ad una nuova misurazione annuale. Secondo l'articolo 17, nel caso dei luoghi di lavoro occorre incaricare un tecnico che abbia i requisiti espressi dall'allegato 2. In sintesi estrema, deve essere un ingegnere oppure anche un architetto, un geometra. Deve aver seguito un particolare corso abilitante. Concludendo, nei prossimi anni ci saranno molti cambiamenti. Da un lato su nuovi obblighi e dall'altro su maggiore tutela della popolazione e dei lavoratori. Questa nuova normativa è vasta e questo video ha dato solo un accenno generale. Se si ha necessità di una trattazione più approfondita, ho realizzato un breve corso sulla piattaforma di formazione della 2C, di cui si può trovare il link in descrizione. Con questo saluto, arrivederci. Prima di procedere, volevo ricordare che non per... Deriva dalla direttiva 2013-59 Euratom e abroga... Nel Puglia Nel Puglia